Ciao a tutti e buona giornata! Mi è stato chiesto di fare un video nel quale parlo del fa diesis e del si bemolle e quindi ho pensato non facciamo solamente un video di spiegazione ma anche una canzone che fra un minuto potrete suonare insieme a me. Allora iniziamo subito con le posizioni. Il fa diesis si può fare in due modi. Fai un re e sollevi l'indice quindi vengono le corna ok? Questo è il fa diesis. Io invece lo suono mettendo giù anche il mignolo. Per me è più intonato ma è questione di gusti. Quello che per te è più comodo è quello che va bene. Seconda posizione si bemolle è un sol nel quale sollevi il medio. Ok? Un sol senza medio. Questo è il si bemolle. Io in realtà preferisco fare un fa senza il dito medio della mano sinistra. Per me questo si bemolle è molto pintonato ma ripeto è questione di gusti. Decidi tu o così o così. È sempre si bemolle. Ciao e buon divertimento! Ciao! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.